Ma poi ne prende... 20 ne paga, ma chiedo a Gianluca quanti ne prenderà e che vende i Gollinelli, adesso quanti ne prenderà? Vende i Gollini? In realtà a Gollini ancora non c'è un'offerta concreta, senza avere la certezza di aver venduto Gollini, ma è un ulteriore segnale di come si è aumentato...